sentite miss dallas voi non avete parenti e neanch'io più famiglia forse vi sembrerò un po' presuntuoso ma vi ho osservato con quel bimbo in braccio il bambino di quella signora avevate un'aria così buona insomma io ho una piccola fattoria oltre la frontiera in un bel posto con alberi erba acqua e lì vicino ho anche una casetta in legno costruita a mezzo un uomo ci può vivere lì e anche una donna volete venire a starci con me ma voi non mi conoscete voi non sapete chi sono io so tutto quello che voglio sapere ci vedrete ma non mi parlate così